La procura di Brescia ha chiesto rinvio a giudizio per Roberta Ratti, l'operatrice della FOBAP, Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili, che lo scorso luglio aveva il controllo su Ryusha Gazi, la dodicenne di origini indiane affetta d'autismo, svanita nel nulla durante una gita a sterle nel Bresciano. I sostituti procuratori Donato Greco e Antonio Bassolino contestano all'educatrice il reato di omicidio colposo. La piccola è scomparsa nei boschi di Cariedege e non è stata più trovata nonostante i mesi di ricerche. Sembra che la bambina sia stata risucchiata dall'altopiano carsico, oltre 700 ettari di vegetazione e una ventina di chilometri di grotte, perché da quel 19 luglio di lei non vi è più traccia. Nonostante i suoi problemi, la bambina era vivace e amava correre. Quella mattina corse talmente veloce che nessuno riuscì a raggiungerla in tempo. Le ricerche partirono subito su larga scala per poi essere sospese a inizio ottobre. Fu il padre della piccola a chiedere la ripresa, ma l'esito è stato anche stavolta negativo. Si è fatto appello anche i testimoni che possono aver visto qualcosa. L'unico ad aver detto di averla vista il giorno successivo la scomparsa è stato un uomo poi arrestato per rapina. Alla luce delle ricerche infruttuose, lo scorso febbraio i giudici bresciani hanno stabilito che la bambina è morta. L'operatrice sarebbe colpevole di non averla sorvegliata attentamente, conoscendo anche la sua attitudine alla fuga.